Ragazzi una notizia molto molto veloce ragazzi è morto Maurizio Zamparini ex presidente del Palermo e del Venezia è morto per complicanze vi lascerò qua l'articolo ragazzi mi dispiace molto perché Maurizio Zamparini poi era famoso perché esonerava un allenatore ogni quattro partite purtroppo comunque ha fatto la storia del Palermo calcio quindi una brutta notizia brutta 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 notizia ragazzi poi speriamo che il ritorno attivo per le reaction ai gol di Inter Milan il derby quindi penso che ci risentiamo sabato per Inter Milan o magari vi carico qualche altro video questo non lo so ciao ragazzi ciao riposo in pace Maurizio Zamparini